La strada provinciale 48, che da San Lorenzo al mare conduce a Lingueghietta, sarà chiuso al traffico da oggi fino al termine dei lavori di ricostruzione di un muro che sorregge la banchina stradale. I lavori sono stati disposti dalla provincia d'Imperia ed hanno un importo di oltre 127 mila euro. L'impresa esecutrice è la Sebastiano Manfredi. L'intervento era atteso da tempo in quanto la banchina stradale ha ceduto a seguito delle intense piogge causando il restringimento della carreggiata. Il dissesto si trova proprio all'ingresso di Lingueghietta ed è in questo punto che il transito è interrotto per consentire l'esecuzione dei lavori.